Questa nostra serata, riprendendo un attimino anche il discorso che ha fatto Leo, è della moneta, della moneta l'ha detto, il suo valore originale è poi nulla, perché in realtà il valore della moneta è quello, è nulla, il valore l'abbiamo noi nelle nostre opere e nelle cose che produciamo, la vera ricchezza è nelle nostre mani, la produciamo noi tutti i giorni in fabbrica o nei campi. Nella migliore delle ipotesi un servo di altri. Allora è anche facile capire come ci siano degli interessi di altri stati affinché quelli un po' meno fortunati o più sciaburati nella gestione delle loro cose, e faccio i nomi, la Grecia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, l'Islanda, e poi credo basta perché gli altri più o meno stanno un po' meglio di noi. Ma pure gli altri hanno la stessa situazione tragica di non controllo della propria sovranità monetaria. Attento, pure gli Stati Uniti d'America, anche il Giappone, però questi ultimi, gli Stati Uniti d'America e il Giappone, hanno le loro banche a disposizione nel momento della necessità. Ossia, banca centrale, dice il sovrano, dice lo Stato, con i suoi portali, con il suo governo, gli servono i soldi, quelli gli devi dare. E' costretto a prestare per legge, gli devi prestare. Indebitandosi, è chiaramente, lo Stato si indebita. E questo naturalmente è un danno anche per il Giappone, anche per gli Stati Uniti d'America. Però questi Stati, nel tempo, pure loro hanno perso il controllo della sovranità. Perché l'hanno perso? Perché i personaggi, i banchieri, i banchieri, quello che l'abbiamo a mai uscola, non parlo del bancho inteso, unicredito, no, altre cose. Tipo, l'ha sentita mai nominare Goldman Sachs? Morgan Stanley? Da lì in poi, perché poi dietro questi enti, questi potentati, ci sono delle persone fisiche, non sono più di 13-15 famiglie, non ce ne sono di più. E questi signori stanno distruggendo il futuro dell'Occidente. Ho parlato dell'Occidente perché per esempio la Cina non ha la stessa situazione. La banca centrale cinese è sotto il controllo dello Stato cinese, ossia la sovranità politica cinese controlla la sovranità monetaria. Pertanto non c'è tanto da ammiravigliarsi se la Cina cresce all'8, 9, 10, 11, quello che è. Oltre, diciamo, le assurdità produttive, per noi, sono assurdità produttive. Ma dietro c'è l'organismo che funziona in maniera organica, ossia la circolazione della moneta, abbiamo detto come la circolazione del sangue, è controllato dal medesimo organismo. Non ci sono trasferimenti di controllo, trasferimenti di sovranità. Quelli sono i personaggi che poi stanno dietro, perché noi quando parliamo così sembra che sono degli enti astratte, dei fantasmi. Sono persone con nome e cognome indirizzi, questo è evidente. Ma allora diciamo, ma noi i personaggi che abbiamo a capo, io parlo di quelli attuali, chi sono? Serbi dei banchieri. Punto. Quello è, perché operativamente vediamo che si comportano in quella maniera lì, da serbi. Certo, una persona più importante può essere un maggior domo, ma sempre di serbi strati. Questa è la dura vita, ma quelli che c'erano prima, attenzione, a certi livelli, non tutti, non tutti, ma una parte importante, pure loro. Io mi sono sempre meravigliato come la sinistra, tutti quanti noi conosciamo, non si sia mai schierata in maniera netta, in maniera forte, contro queste situazioni indecenti e impossibili. Mai sentito? Ma sono i primi serbi. Ha parlato il signore e ha detto quello che è, quello che lui ha pensato, che penso pure io, che penso pure una parte di voi, condivide. Quello che non capisco è... Un attimo, prego. A chi giova? Al padrone, a chi ha il controllo della sovranità monetaria. La moneta è uno strumento. Quando siamo tutti nominati è una bella domanda, è una bella domanda. Quando siamo tutti nominati, sempre ci sarà qualcun altro da rovinare. Gli Stati Uniti, che è ritenuta tutt'oggi la prima potenza mondiale economica, oltre che militare, non potrebbe essere la prima potenza economica se non fosse ancora la prima potenza militare. L'uno senso l'altro non funziona. Pertanto i potentati che stanno dietro queste belle banche, che poi controllano la Federal Reserve, perché se uno si prende internet, voi siete maestri nella cosa, andate a vedere Federal Reserve, gli azionisti, ve li vedete da voi. Gli azionisti, chi sono? 6%. Allo 0, qualcosa per cento, c'è niente. Un po' di più. Questa è la verità. Pertanto lo Stato italiano nel tempo ha, noi sempre, quando parlo di Stati siamo noi lo Stato, perché ha regalato la sovranità monetaria per gradi a questo ente nominato Banca d'Italia, SPA di diritto pubblico, Società per azione di diritto pubblico, perché la quota azionaria, una volta quella di maggioranza, era dallo Stato, era nostra. Pertanto dietro al signoraggio, che cos'è il signoraggio? Adesso ve lo dico. Il signoraggio sa che cos'è? È la differenza tra il costo tipografico della moneta e il suo valore nominale. Prenda lei un simbolo monetario qualsiasi, da 500 euro, 200, cioè quello che è, pochi centesimi, pochi centesimi. Quello che costa, carte indiostra, distribuzione, ritiro, eccetera. Ci sono pure delle belle cifre dietro. Tant'è vero che i signori della moneta dicono, ah ma costa troppo. Non è una verità, è una mezza verità, perché quel costo in effetti c'è e lo vogliono togliere. Ma non è che vogliono togliere tanto il costo di quei pochi centesimi per simbolo monetario che rappresenta la circolazione monetaria, come sarà sì e no il 9% di tutto il circolante. Perché la maggior parte della moneta si chiama in gergo tecnico moneta scritturale. Oggi si chiama moneta elettronica, moneta telematica. Pertanto la moneta fisica è abbastanza poco, sarà il 9-10%. Però quella moneta che circola è senza controllo. Da parte di chi è il vero padrone è senza controllo. Allora che succede? Se è senza controllo bisogna convincere le mucche in noi a lasciarla perdere, avere la moneta, la tessierina di plastica, la carta di credito, il banco, ma questa roba qui. E così non abbiamo più nemmeno il fastidio di avere i soldi in tasca. Che bello, bella sì. In quella maniera libero, cara signora. Lei è controllata completamente. Lei alla fine può anche non disporre, se così decide il signore, il vero padrone, lei non può nemmeno più disporre dei soldi suoni. Basta un'occhi di di, ta-tam, puh, e lei, locato. Va lì, dice, ma questa non è operativa, non funziona. Non ci sono più fondi. È vero? E uno ci deve pensare pure queste cose qua. Io non sono un complottista geneticamente portato a vedere... Però su certe cose, purtroppo, bisogna chinare la destra e dire sì, in effetti è così. Io mi fermerei dopo aver detto un po' di queste disordinate cose sulla moneta, perché preferirei che qualcuno mi facesse delle domande. Se sono capace di rispondere, dirò. Chi è avvenuto l'Italia all'Europa? Prodi e su quale commissione? Cioè, chi è? Prodi, Ciampi e Amato sono stati gli artefici dell'inchino dell'Italia all'Euro, alla moneta comune. Con chi erano i contatti? Con chi erano i contatti? Allora, quando si parla di Europa, dietro ai fatti monetari, l'Europa, tipo le nazioni così... Contano tra il poco e il nulla. Quando si parla di Europa, si deve parlare solo di Europa dei banchieri, quando parliamo di questi argomenti qua. Per esempio la signora Merkel, che lei in questo periodo non sta apprezzando granché, alla fin fine quella fa in parte gli interessi suoi di partito, perché l'anno prossimo deve essere rieletta, sperando di essere rieletta, che lo sa. E dall'altra parte, essendo pure lei una cameriera, è una cameriera perché sennò a quei livelli là non ci si arriva politicamente. Attende, è molto molto difficile, se non impossibile. Certo, poi ci possono stare delle schegge strane, possono venire fuori personaggi così, però è abbastanza difficile. E' abbastanza difficile, anche persone che uno può ritenere completamente al di sopra di certi schemi, poi se uno va a scavare, va a vedere, magari sono asservite pure loro. Dice, ma no, questo non c'è bisogno, io adesso non voglio fare nomi di personaggi che sono leggermente caduti in disgrazia, che si ripresenteranno, almeno così hanno detto, si ripresenteranno nelle prossime lezioni. Pure qui dice, ma quello è uno che sta bene del suo, talmente cosa, perché non importa di stare a fare il lacché dei banchieri. Eh, ma quando uno incomincia ad avere il 33% della banca, sia pure della banca minimale. Abbiamo visto, abbiamo assistito a delle belle scenette negli anni passati, abbiamo visto Tremonti che voleva tassare le plusvalenze dell'oro della Banca d'Italia. L'oro della Banca d'Italia è qualcosa come 2.500 tonnellate, terzo paese al mondo come riserve d'oro, se escludiamo il Fondo Monetario Internazionale, se no saremmo quattro. Sì, ma sa quant'è come valore al costo attuale dell'oro, 40 euro circa, 40-41 euro al grammo? Circa 100 miliardi. Cioè non è che vendendo quello che ha messo, intanto hanno detto che non è più dallo Stato, questo poi mi devono spiegare perché, perché quello era dello Stato italiano, poi di colpo non si sa più di che è, tant'è vero che è arrivata la BCE che ha detto ma no, non si può assolutamente toccare, perché con l'indipendenza, la sovranità, ma oh, BCE, tu intenziali, BCE, solo. Lo stesso signor Berlusca, l'abbiamo detto il nome di qui sopra, e disse ma no, ma se la BCE non muole, se Trichet non si contenta, se Draghi che allora era governatore non è d'accordo, meglio di no. E questo che mi sta a significare? Che il signor Berlusconi comunque non è autonomo e indipendente come uno magari poteva pensare. Io l'unico personaggio politico, che adesso è in disparte, che ha avuto il coraggio di dire più volte, è presentata pure una legge che rimane inoperante, di dire più volte che la sovranità monetaria deve ritornare allo Stato, si chiama Giulio Tremonti, nel bene e nel male, questo io debbo dire, questo io debbo riconoscere, ci sono documenti, interviste, certo non è che ha avuto, forse sarà mancata l'opportunità, forse ha ritenuto non necessario dire le cose come le sto dicendo io in questo momento, però l'unico uomo politico, che io non ho proprio 21 anni, moltiplicato per 8, per 4, per 5, va bene, mettiamoci d'accordo signora, ecco così, che è la prima volta che ho sentito un uomo politico, ministro, che ha sparato a zero su una funzione sacrosante come quella della moneta, che purtroppo non è più controllata dall'Ottato ma da terzi. Signora, se ci fosse una forte risonanza di base, si potrebbe già obbligare il vertice della Nega Nord, di dire, ma se la Nega Nord perché non rivendichi la sovranità monetaria? Non diciamo è ora che ritorni allo Stato, così lo Stato è veramente... Se noi abbiamo la condanna dell'Euro, che oltretutto, questo non lo sapevo in questi ultimi tempi, non c'è nemmeno la possibilità di uscirne fuori, non ci sono procedure per uscire fuori dall'Euro. Sì, ma quelli vogliono buttarti via loro per farti dichiarare lo Stato insolvente, come si dice il default, come se non ci fosse la bancarotta. Dottore, ma si potrebbe cominciare a ripudiare il debito però? Tecnicamente è possibile. Tecnicamente, se una parte di quel debito si potrebbe pure ripudiare una parte. Sì, perché l'altro è in processo. Quello che è nei confronti dello Stato, ma quello fatto ai confronti di terzi. Per esempio, lei, non lo so, la signora ha nei suoi titoli risparmiucce, eccetera, o risparmione, ha dei titoli di Stato, che fai? Gli diciamo adesso parla alla metà, vale più niente. Distinguere ciò che è nelle mani dei cittadini italiani e ciò che invece non è nelle mani. E' la percentuale maggiore. Bisognerebbe oggi quantificare quello che sta in mano a terzi e quello che sta in mano a banca centrale. Quello che è in mano a terzi è abbondantemente superiore. Il Giappone è un problema inverso. Il 96% è in mano alla banca centrale. La signora mi deve fare una domanda. Devo chiedere questo. Nell'81, quando lì ha raccontato che Andrea ha proposto... No, ha proposto, ha fatto la legge. Ha fatto la legge. Però sarà stata votata da qualcuno? La maggioranza l'ha dovuta votare, come si suole fare nei paesi cosiddetti democratici. Sono resi conto di quello che stavano votando? Allora, una volta i politici su questi argomenti erano una manica di ignoranti. Io sono più di 45 anni che ho avuto così opportunità di sentire queste cose qui. Erano una manica di ignoranti. Oggi, signore, c'è una manica di persone in mala fede. Ecco, non ci sono più gli ignoranti. Ci sono persone in mala fede. Questa è la mia vita. Io non capisco che differenza che ci sia tra l'euro in Germania e l'euro in Italia. Mi spiego perché qualcuno va a comprare i fund germanici non pagando, ma pagando perché gliele tengano. Allora, ci sono le manipolazioni. L'Italia non è la Grecia. L'Italia non è nemmeno la Spagna, nemmeno il Portogallo. L'Italia, per certe versi, è meglio di Inghilterra che non ha l'euro, però la Banca d'Inghilterra è il terzo socio della BCE, tanto per parlare di cose strane. L'Italia è un paese che ha la possibilità di pagare i propri debiti. Parlo di debito pubblico. Ce l'ha. Però c'è ormai la nomea che l'Italia è un paese sciamannato. facilmente può fare la fine dell'Argentina. Pertanto, se io presto i soldi a te, italiota, per dire in senso spregiativo a te, italiano, che non vale niente, io voglio il 10%. Dalla Germania, ci hanno le Mercedes, le Audi, le Porsche, le Cayenne, tutte queste robe qui, gratis. Tanto è vero che praticamente danno i soldi, la cosa ha interessi presso quel zero. Noi paghiamo il 5-6%, loro pagano niente. Pertanto, finanziarsi in quella maniera lì è comodo. Però sta tendo a un danno proprio alla Germania, perché il capitale comunque lo devono restituire. Attenzione, il debito pubblico dalla Germania non è quello che si dice, è di più, molto di più, perché non mettono nel loro bilancio i debiti dei lender, perché è uno Stato federale. Questo vale proprio per gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America sta in una situazione terribile. Giusto? Poi ve lo racconta l'amico Vito qui. Ma quando fanno in Bortadella? Bortadella, amico nostro. Come disse, italiani. Brava gente. No, non vediamo tutti più italiani. Ma va bene. Allora, caro signore, la risposta è semplice. L'Italia sa dove l'ha avuto i vantaggi. Noi sa dove l'abbiamo avuto i vantaggi. Perché quando abbiamo preso i soldi in prestito, l'abbiamo pagato con un interesse molto più basso. Invece del 10-15, abbiamo pagato 4-5-6%. Soltanto che nel frattempo i prezzi erano più che raddoppiati. Punto. Allora abbiamo fatto il commercio proprio un affarone. Questa è andata così. è andata così. Io, dico francamente, non mi aspettavo che l'entrata nell'euro avesse poi provocato una tragedia di questo genere. E noi siamo messi in una situazione terribile. perché abbiamo una situazione di sperpero, di denaro pubblico indecente. Da terzo mondo, anche peggio. In più abbiamo la condanna di non avere il controllo della nostra moneta. Perché non abbiamo più la lira. Ma anche se avessimo avuto ancora la lira, erano nelle stesse identiche condizioni. perché non avevamo la Banca Centrale come prestatore di ultima istanza dello Stato. E in più non avevamo il controllo su il signoraggio. Perché il signoraggio, caro signore, sai che cos'è? Io l'ho detto prima la differenza. Se lo fa lo Stato a nome proprio, significa che quando presta i soldi e poi vengono restituiti, quei soldi restituiti che quando la dati valevano niente, ma dopo si sono saturati di valore, girando, circolando, quei soldi là è ricchezza che può essere reimpiegata togliendo parte, per esempio, anche del peso fiscale. Questa è la cosa. Soltanto che questi sono giocattoli formidabili in mano ai banchieri. Lei pensa che un banchiere di quel genere, di quella fatta lì, rinunci facilmente a questo privilegio, perché è un privilegio, della sovranità monetaria? Proprio non l'acquisire. Però certo, se uno Stato dice io esco fuori dall'euro, ritorno alla mia Banca Centrale, e la Banca Centrale con la legge che aveva fatto Tremonti, che è rimasta inoperativa, si applica e automaticamente viene liquidato l'azionista delle banque che abbiamo detto e ritorna ad avere la maggioranza. Cosa è lo Stato italiano? E a quel punto le cose potrebbero prendere un'altra piega. però rimane sempre fermo un fatto. Se c'è lo sperpero che abbiamo noi in Italia, possiamo avere tutte le sovranità monetarie di questo mondo, possiamo attenuare, ma non è che sta cosa, perché se uno produce 100 non può spendere 150. Scusi? Io la... Mi prendo. Ma il fatto di non avere più l'oro in casa nostra, fuori, potrebbe essere una forma di ricca? Alla forza! Non ho capito. C'è l'oro che dovremmo avere l'oro? Ah, l'oro, sì. C'era la Banca d'Italia. Ma tanto che è messo... No, 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 la città. Tutto a casa nostra? No, ce l'abbiamo, vabbè, ma comunque sia, può essere pure trasferito, ma quelle sono per le transazioni internazionali, quelle che dice che sono nei sotterranei di Nuova York, lei è quello che si riferisce, sono... non sono i 2.500 tonnellate, quelle sono le 2.500 tonnellate, ce le abbiamo noi. Per fortuna sono in Italia. Ma comunque sono 100 miliardi. Sono 100 miliardi, non è una cifra che, come ha detto una volta qualcuno, dice ma noi vendiamo quello e chiudiamo il debito pubblico. Purtroppo no. Il discorso era questo, che se li hanno fuori, se noi li togliamo una lira non ce li danno più indietro. Ma no, 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 non è così. No, l'oro che sta a New York serve per certi tipi di transazioni dove non è possibile lo scambio di merci con delle monete. È capitato alla Germania e del Terzo Reich, questo però è un'altra storia, ci vorrebbero altre conferenze qui, è capitato a tempo dalla Germania e del Terzo Reich, transazioni internazionali non se le facevano più, quelli avevano dell'oro in riserva, hanno operato quello. Quando non era possibile fare altro, hanno fatto quello. Però, attenzione, la Germania ha seguitato a funzionare benissimo, pur avendosi tolto di mezzo la calamità grossa della loro Reich Bank in mano a dei potentati privati. Perché così è successo. Queste storie, non è che me le invento io, perché queste storie è andata così. Quando le banche sono senza soldi e vengono ricapitalizzate, cioè gli rendono dati dei soldi, chi gli dà questi soldi? Allora, le banche vengono ricapitalizzate o dagli azionisti oppure dalla banca centrale, perché tutte le banche che fanno capo, adesso parlo di queste che fanno capo all'euro, pertanto le banche nostre, le bancarelle nostre qui, hanno il conto corrente con la banca, prima ce l'avevano con la Banca d'Italia, adesso ce l'hanno con la BCE. bussano a quattrini, devono dare delle garanzie. Quali? Ma non lo so chi dà, comunque devono dare delle garanzie, dei titoli, dare qualcosa, e la banca centrale presta dei soldi all'interesse che è il tasso ufficiale, il TUS, il tasso ufficiale di sconto. È quello che lei ha sentito negli ultimi otto mesi. La BCE ha prestato al circuito delle banche che fanno capo all'euro, mille miliardi. All'1%. All'1%. Agli stati al 5, al 6? No, allo Stato e ne hanno prestati. No, no. Lo Stato deve pagare 5, 6 verso terzi. Ok, dice un'altra cosa. E poi sono le banche che ricevono quei soldi che dicono, ma guarda un po' adesso voglio fare il generoso, mi dicono un po' di tuoi tipi, però voglio il 6%. Sì, con un passaggio ulteriore. Era quello che intendevo. Questo è il bello di queste cose qui, quello che stavamo dicendo. È assurdo. È assurdo. Lo Stato si deve stampare i propri soldi, deve mettere la propria moneta a costo nullo, la fa girare, si satura. Questa è la famosa teoria del valore indotto. Si satura di valore e dopo con quei soldi che ha incassato lo Stato, perché è come se li incassasse, ci può fare quello che vuole. Può addirittura ridurci le tasse. Se invece è demandato a un ente che si chiama PCE o Banca Italia o mi dico Banca Francia, sono gli altri che si arricchiscono di queste cifre. E questa però è tutta un'altra storia per spiegare come fanno, come non fanno, per non farlo vedere, perché poi non deve apparire sui loro conti. Allora secondo... Così, eh? Non è secondo me, perché io le cose che dico è quelle che... Potremmo pensare che potrebbe succedere? Quello che potremmo sapere, l'ho detto prima, dovremmo cercare, per esempio ecco la Lega, la Lega Nord, con i suoi vertici, dire signori, qui c'è un'anomalia grave. C'è l'onorevole Borghese che queste cose qui le dice da anni. però io solo quello conosco, ma non ne conosco altri. Ogni tanto Speroni si vede? Non lo so, Speroni non l'ho mai sentito, però Borghese sì. Sì, sì, Borghese certo. Ma Tremonti ha fatto un'altra porta oggi? Tremonti non ha fatto un'altra porta oggi di lei? Tremonti ha fatto una legge che è rimasta in operativa, quella di... Oggi non lo so che ha fatto Tremonti, perché non ho comprato non ho comprato né il giornale né l'ho lega, perciò non so che è successo. Chi ha sentito? Tremonti ha fatto la confusione di legge d'accordo con i deputati della Lega. E la legge sulla classica, la disparizzazione tra banche... Ah, è quella è un'altra bella storia, però qui il discorso poi si comincia ad allargare, una cosa importantissima comunque, le banche commerciali e le banche d'affari, perché qui si fa un particcio poi con tutta la situazione che riguarda la finanza, non la finanza della banca centrale che è la chiave di volta, ma tutto quello che viene dopo, che è un disastro, perché si crea tale e tanto di quella moneta che si chiama moneta virtuale, moneta che non esiste, i derivati, i fuccio, tutte queste robe qua, che è 12 volte il PIL mondiale, ma siamo matti, noi siamo seduti su una... non è manca la bomba di idrogeno, non so che cos'è, io mi fermo perché se no l'amico Vito qui... ringrazio Sangro anche lui per le sue dissertazioni, adesso vi devo... grazie a tutti... grazie a tutti...